Buon pomeriggio, bentrovati a tutti voi, bentrovato soprattutto a Maglio Di Stefano, sottosegretario agli affari esteri per il Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio. Allora, io inizierei subito con un commento a queste ultime parole di Macron, il presidente francese che alla vigilia dell'incontro che dunque si farà domani con il Premier Italiano Conte, dice che con l'Italia è tempo di distensione. I toni particolarmente aspri e trasversalmente criticati sono stati messi definitivamente da parte? Ma io lo spero nell'interesse di tutta l'Unione Europea. Se avete visto negli ultimi giorni, la presidente Merkel in Germania ha più volte ribadito di andare in una direzione di aiutare l'Italia. C'era stata questa, secondo me, anche cattiva gestione di rapporti interni alla forza di maggioranza in Francia che ha portato a queste dichiarazioni infelici negli ultimi giorni. Credo che la forza del presidente Conte e del governo italiano in questo caso sia stata quella proprio di far capire che è finita l'epoca dei governi che abbassano sempre la testa. E questo ci sarebbe riconosciuto. La Francia ha fatto chiaramente un passo indietro, anche solo il fatto che Macron abbia chiamato nella notte addirittura Conte per chiarire la cosa, fa capire che ha compreso l'errore. E ora l'importante è ripartire, dico io. Non siamo qui per fare diatriba, ovviamente, siamo qui per far funzionare le cose. Io credo che l'incontro di domani possa essere il primo, poi ci saranno sicuramente incontri con la Merkel, ma tutto in fase preparatoria dell'evento più importante, che è il Consiglio Europeo del 28 giugno e 29, dove l'Italia deve arrivare con una sua riforma del regolamento di Dublino a misura di paesi che conoscono davvero la problematica. Ecco, l'onore Stefano, ci dice meglio qual è la proposta italiana per la riforma di Dublino e anche qual è lo schieramento di alleanze, perché hanno applaudito ai toni alti e al pugno duro di Salvini, anche e soprattutto paesi che non sono storicamente nostri alleati, da Orban, che è capofila di tutto lo schieramento di Visegrad, come appunto lo definiamo. Anche in Germania stiamo assistendo ad un braccio di ferro importante tra la cancelliera della CDU Angela Merkel e il suo ministro dell'interno, che è della CSU, e che pare avere politiche, una visione diciamo più... restrittiva nei confronti dei flussi migratori e dell'accoglienza. Io credo che bisogna partire da un concetto su tutti. L'accoglienza deve essere gestita dall'Unione Europea. Cosa vuol dire? Perché lo dicono tutti da sempre, ma non si fa mai. Significa che i confini europei si devono spostare quantomeno al Maghreb, quindi al Nord Africa. perché se pensiamo che il porto naturale dell'Europa siano sempre Spagna, Italia, Grecia, Malta anche, allora già abbiamo fallito, perché la vera spesa, in termini sia sociali che economici, che anche di impatto emotivo, è quella della prima accoglienza. Il caso della nave Aquarius ne è un esempio. Spostare i confini lì vuol dire creare un'agenzia internazionale che faccia fare le richieste di asilo direttamente nei territori di transito dei migranti, ovviamente analizzando i scenari politici di quei territori, e soprattutto è l'obbligo di suddivisione per quote di tutti i richiedenti, non soltanto degli asilati, ovvero quelli che hanno già avuto l'asilo, perché quelli sono soltanto il 30% di quelli che gestiamo. Quindi il 100% di chi si muove deve essere automaticamente smistato e poi nei paesi che li accolgono faranno le pratiche per richiedere asilo politico. Ed è lì che se non avranno questa carta dovranno essere poi gestiti, rispediti. Ma come si supera la ritrosia dei paesi che comunque non hanno mai aperto le proprie porte all'accoglienza? Io credo che nelle frasi di Orban ci sia stato il fraintendimento. Forse pensava che in Italia volessimo far finta che non c'è il problema migratorio, come fa lui da tanto tempo. Noi vogliamo invece gestirlo. E per gestirlo lui, come tutti i paesi grigli, Visegrad e anche altri, perché non sono solo i Visegrad, anche in Nord Europa c'è parecchia di atriba su questa questione, capiscano che l'Europa è stata fondata con la dedicazione di Schumann sui valori. Quindi non può essere un'unione di vantaggio soltanto. È un'unione che ti garantisce dei vantaggi, ma devi prenderti le tue responsabilità. Noi siamo contributori nettici, noi versiamo nell'Unione Europea più di quanto riceviamo. Se fosse soltanto per la convenienza non ci dovremmo stare, invece ci stiamo per i valori dell'Unione Europea. Gli altri devono capire questo. Forse l'errore di base, lo riconoscono un po' tutti oggi, è aver allargato l'Unione Europea troppo facilmente, senza pensare al fatto che chi ne facesse parte dovesse condividerne i valori. Però, Stefano, anche lei dice che forse Orban ha un po' frainteso, però questa linea così dura, al transista del nostro ministro Salvini, dei porti chiusi, che ha ribadito anche nelle ultime ore, può essere, diciamo, interpretata in quel senso. Ecco, c'è un... È una dimostrazione politica questa, è una dimostrazione politica. Quindi è solo un segnale, le dice... Salvini ha detto una cosa, secondo me, molto giusta. Quando c'è stato il primo attacco da parte della Francia, lui ha risposto alla Francia, piuttosto si prenda i 9 mila che gli spettano. Perché in realtà, quando è stata fatta l'ultima, è stata avviata l'ultima revisione di Dublino al Parlamento Europeo, si fece una stima della ripartizione per quote per i 27 paesi. L'Italia, ovviamente, ha un sovrannumero rispetto a quello che dovrebbe gestire. In alcuni paesi, invece, la Germania non corre questo rischio, ad esempio, ma la Francia, ad esempio, dovrebbe prendere circa 9 mila migranti. E allora, io credo che questo sia il concetto base. Tutti devono capire, ed è il messaggio politico che stiamo dando, che o si prendono la loro parte di responsabilità, o non possono accedere ai valori dell'Unione Europea e ai vantaggi dell'Unione Europea. Ed è questa la chiave anche con i paesi vicegrad. Cioè, vuoi fare parte di questa famiglia? Hai diritti e doveri, come tutte le famiglie del mondo. Anche i figli rispetto ai padri hanno questi doveri. Quindi o vicegrad capisce questi valori condivisi, oppure noi, al Consiglio di fine giugno, cioè l'Italia va con uno schieramento, con una coalizione, perché ovviamente poi l'Italia non può fare da sola, l'abbiamo detto e ripetuto più volte. Noi speriamo di avere sia Germania che Francia che tutti i paesi fondatori dell'Unione Europea, o quantomeno che condividono i valori dell'Unione Europea, Spagna, Grecia, Malta, ad esempio, sicuramente saranno dalla nostra parte da questo punto di vista. Io credo che la Germania lo sarà pure, spero che la Francia lo sia pure. A quel punto l'Unione Europea, quello che molti magari non sanno, è che ha un sistema sanzionatorio su quasi tutte le direttive europee. Sulle quote obbligatorie non ha mai messo un sistema sanzionatorio. Se tu i paesi vicegrati dici, o lo fai o non accedi ai fondi per lo sviluppo, ad esempio, io credo che lo faranno. Un'altra domanda me la consenta. Abbiamo sentito tanto la voce di Salvini, le dichiarazioni di Salvini. C'è un'anima del Movimento 5 Stelle che non concorda in toto con questa linea? E come vi rivolgete a quell'anima? Oppure è tutto condiviso? Sicuramente c'è chi... Allora, di base tutto il Movimento 5 Stelle crede che il rispetto dei diritti umani e della legge internazionale sia sacrosanto. Tant'è che, l'abbiamo detto più volte, la nave Aquarius non aveva delle criticità, cioè non era il barcone che stava affondando, altrimenti l'avremmo ovviamente recuperato che è un diritto da Costituzione. Era una nave che aveva già salvato e messo in sicurezza i migranti. Credo che all'interno l'unico dibattito che ci sia è fino a che punto arrivare. Credo che l'abbiamo già chiarito comunque. Noi volevamo arrivare ad avere una risposta concreta dalle istituzioni europee e dai presidenti più importanti dell'Unione Europea. C'è stato questo riscontro, mancano due settimane soltanto al Consiglio Europeo ed è lì che l'Europa dovrà dirci cosa vuole fare. Quindi da ora in poi con altri casi Aquarius come ci comporteremo? Perché ora ci siamo collegati in diretta con un'operatrice della Sea-Watch 3 che è una nave che avrebbe dovuto accogliere dei migranti salvati da una nave battente bandiera statunitense e che non li ha accolti perché non gli è stata data disposizione del porto sicuro più vicino di approdo. Dunque diceva l'operatrice non potendo affrontare un viaggio magari lungo come quello che sta affrontando l'Aquarius scortata dalla nave della Marina e dalla Guardia Costera verso la Spagna dove approderà, abbiamo saputo, domenica quindi ancora tre giorni di navigazione per ora non ci possiamo prendere questa responsabilità. Quindi c'è un po' una situazione di stallo ancora? È evidente perché è tutto nuovo nel senso che c'è una necessità di avere una fermezza sulla gestione di questo caso perché io dico, volendo dare anche il giusto credito a quello che sono fatto in passato tutti hanno detto e hanno anche provato a fare faremo capire all'Europa che serve solidarietà sull'immigrazione poi però finché i tuoi porti rimangono aperti tu continui a fare in modo ossequioso il tuo lavoro giustamente poi gli altri non ti ascoltano e allora io credo che nel rispetto ai diritti umani lo ripeto e lo sottolineo vada tenuto questo pugno duro perché d'altronde i porti più vicini gli italiani se lo chiedono tutti al di là di quando sei nella zona diciamo nello stretto di Sicilia ma gli altri porti più sicuri vicini sono sia Malta che la Spagna che la stessa Tunisia in alcuni casi e capisco che la Tunisia per motivi geopolitici si stia lasciando un pochettino in tranquillità ma Malta, Spagna, Italia e Grecia dovrebbero condividere quantomeno questo onere nel breve periodo il lungo periodo è quello di cui abbiamo parlato prima cioè far sì che cambi completamente la struttura e invece siamo soltanto noi da accoglierli e addirittura la Capitanina italiana è l'unica investita della responsabilità delle operazioni di soccorso in mare cioè della manovra proprio delle varie barche che coordina tutta la struttura dei soccorsi in mare per cambiare l'impianto del coordinamento generale come dice lei ci vorrà tempo invece le chiedo di fronte a un altro caso Aquarius e nel frattempo ringraziamo chi ci sta dando la mano come è successo con la Spagna nel caso di Aquarius certo ma in un altro caso Aquarius l'Italia nei prossimi giorni prima che riuscirete diciamo a rinegoziare ritrattare e ridefinire i rapporti e i trattati di Duplino come si comporterà? aprirà i porti o? questo lo valuterà il ministro dell'interno caso per caso ha già detto ed è evidente che chi sarà soccorso dalle navi della Marina Italiana ovviamente i porti sono aperti per la Marina Italiana ci mancherebbe altro c'è l'annosa questione delle barche battenti bandiera straniera delle ONG e lì va valutato perché sono alcune imbarcazioni l'abbiamo visto quando ci fu quella famosa polemica dei taxi del mare che poi si evidenziò un problema reale che alcuni imbarchi in realtà partivano sostanzialmente dalla costa libica e arrivavano direttamente in Italia quindi non c'era neanche il concetto della zona SAR non può andare così perché nel lungo periodo significa che l'Italia diventa realmente l'hab europeo forse era questo il sogno di alcuni in Europa noi lo stiamo scardinando però allora io la ringrazio veramente dunque insomma Conte e Macron si vedranno domani proprio durante il nostro orario alle 15 c'era un punto stampa congiunto quindi avremo aggiornamenti importanti da darvi si riparte da lì dunque assolutamente sì da quell'asse Conte è un'agenda bella fitta nei prossimi giorni spero che sia fruttuosa sono certo la ringrazio veramente Mario Di Stefano sottosegretario agli affari esteri buon lavoro